E la stagione della Ternana si è appena conclusa, è considerato che il dodicesimo uomo in campo viene spesso identificato nel pubblico. Al circolo Laboratori Terni è stata allestita una mostra fotografica dedicata proprio al giocatore, idealmente con la maglia numero 12, ovvero i tifosi. Vediamo le immagini nel servizio. Una stagione, la prima in Serie B dopo il purgatorio di Lega Pro della Ternana, raccontata dagli scatti di fotografi professionisti e non, sono incentrati soprattutto sul dodicesimo uomo in campo, il pubblico. Presso i locali del CLT è stata allestita una mostra diversa dal solito e per questo molto interessante. L'anno scorso in questi locali abbiamo fatto una mostra fotografica dedicata al 40esimo anniversario della promozione della Ternana in Serie A. Invece quest'anno è dedicata a questa stagione appena terminata. Sono fotografie fatte nell'intera stagione, sia in casa che fuori casa. Le foto sono di quattro fotografi, un professionista e tre amatori, diciamo. Il professionista è Vairo Nulli, che tutti a Terni credo conoscano. Poi io sono Marco Barcarotti, c'è Michela Pasqualetti e Vincenzo De Gregorio. Come dicevo sono foto fatte nell'arco di tutta la stagione, dedicate più che altro ai tifosi, più che alla squadra. Infatti sono tutte fotografie soprattutto della curva est e della curva nord. E sì, qui si vede insomma quello che è il tifo rosso-verde, sia nei tifosi singoli diciamo, che la est che rimane sempre un colpo d'occhio credo eccezionale. Le foto saranno in esposizione fino a domenica, dunque questi sono gli ultimi giorni per poter rivivere la stagione appena conclusa, sigussando scatti davvero unici.